Salve a tutti amici del Centro Meteo Italiano. Scenario meteo conteso dall'anticiclone nord africano in estensione verso l'Europa occidentale, il quale lambisce soltanto la nostra penisola e il campo di bassa pressione responsabile del maltempo dei giorni scorsi oramai piuttosto lontano sui paesi dell'est europeo, ma il quale richiama un flusso instabile dai quadranti settentrionali generando ancora dei fenomeni pomeridiani più probabili al ridosso dei rilievi. Ma vediamo la previsione del tempo sull'Italia per la giornata di mercoledì 8 giugno. Al mattino tempo stabile e soleggiato sulle regioni del centro-sud peninsulare e isole maggiori, più nuvoloso sulle regioni settentrionali, specie sulla Liguria, Piemonte e Lombardia con nubi convettive in rapido sviluppo e i primi fenomeni associati in tarda mattinata sull'arco alpino. Nubi in intensificazione nel corso del pomeriggio sui settori interni del centro e del sud peninsulare, come anche su tutto l'arco alpino dove ci attendiamo piogge e possibili rovescio temporali associati. Tempo più stabile e soleggiato invece sulle due isole maggiori e lungo le coste peninsulare. Alta probabilità di piogge temporali anche in serata sulla Lombardia, Emilia e Veneto, oltre che sui settori alpini e appenninici, nottata più stabile al centro-sud, deboli piogge invece sulle regioni settentrionali. Prima di salutarci diamo uno sguardo anche alle temperature le quali si prevedono stazionari o in lieve calo le massime al nord Italia, tuttavia in linea con la media del periodo. Anche per oggi è tutto con le previsioni del tempo sull'Italia. Vi invito a consultare maggiori dettagli sul nostro sito o dalla cellulare con l'app gratuita Meteolife del Centro Meteo Italiano.